Buongiorno, ci troviamo a Pesaro in un posto particolare perché qui si esercita una forma innovativa di lavoro collaborativo che viene designato con il termine co-working, un lavoro in cooperazione, in collaborazione. Siamo qui con due ragazzi che sono i viatori di questo progetto e intervistiamo Martino Massalini che ci spiegherà che cosa è il co-working. Il co-working è un termine generico che non abbiamo inventato noi, io e Cristiano. Il co-working è una pratica di lavoro condiviso, sono professionisti che lavorano nello stesso posto abbattendo i costi fissi. Questo è il primo obiettivo del co-working. Per cui co-working non è assolutamente una parola che abbiamo inventato noi, noi abbiamo dato il là al progetto di co-working Pesaro. In realtà poi il co-working in Italia è stato definito molto bene da COUO, che è un progetto nato a Milano che conta diversi spazi, tra cui il nostro, una rete di spazi di co-working che ha definito un po' le linee guida di quello che è il co-working declinato in Italia, sotto tanti punti di vista, tra cui anche quello legale, di contrattualistica e quant'altro. Quindi sicuramente co-working è questa pratica dove nello stesso posto fisico ci sono più professionisti che lavorano. Infatti co-working, cioè lavorare insieme. Una pratica nata in Nord Europa, in America, e adesso con i nuovi modi di lavorare e la nuova situazione economica che in cui ci troviamo tende a venire fuori perché ci sono diversi spazi vuoti che tendono a essere riempiti in maniera, se vogliamo, più intelligente, in cui appunto professionisti si mettono insieme, dove ognuno, vorrei precisare, fa il suo lavoro, per cui quando uno entra in un co-working non viene nella speranza di trovare lavoro, ma viene semplicemente perché ha bisogno di una sede dove lavorare e ha una sua attività sostenibile che funziona. Poi il co-working ovviamente oltre ad essere una pratica che nasce per abbattere le spese, perché chiaramente si dividono le spese a questo punto, ha una sostenibilità economica da un punto di vista infrastrutturale molto migliore e poi diventa luogo di collaborazioni e progetti nel momento in cui ci sono attività che hanno in seno una parte creativa molto, comunque una parte creativa importante per cui succedono progetti, succedono cose ed è questo il valore aggiunto del co-working che tu non puoi spiegare all'inizio, ma che poi ti rendi conto che di fatto è la cosa più importante. Quindi non ci sono solo benefici di natura economica, ma sono benefici più estesi. Assolutamente. Si parte sempre col mettere in chiaro che il co-working nasce per abbattere le spese, però di fatto il vero valore non è quello dell'abbattimento della spesa, ma piuttosto è quello di avere vicino, a portata di scrivania, a portata di braccio, professionisti che fanno tutt'altro lavoro da quello che tendenzialmente fai tu, che ti possono dare una propria opinione sul lavoro che stai facendo, una consulenza, quindi abbattere tutti quei tempi morti che tu avresti quando... Poi un'altra cosa, tra l'altro, siccome il modo di lavorare, perlomeno quello che c'è qui dentro, cioè dell'attività che ci sono qui dentro, è molto fatto, è molto liquido, cioè tende molto ad essere a modi rete, quindi il fatto di avere dei professionisti vicino ti permette proprio di abbattere i tempi e i costi di doverti spostare per andare a, che ne so, a trovare un fornitore o per collaborare in un progetto che stai facendo, per cui questo è un altro valore aggiunto che c'è. Poi l'ultimo, dicevo, è quello di trovarti in sintonia con persone che fanno parte di questo gruppo e costruire insieme dei progetti, che a quel punto hanno dei tempi di realizzazione molto più compressi perché ce li hai vicino, quindi tu puoi, per fare un esempio stupido, tu puoi lavorare fino alle sei e mezza di sera, poi si fa una riunione dalle sei e mezza alle sette e mezza, dalle sei e mezza alle otto, sul progetto che stai portando avanti, e questo lo puoi fare ogni giorno, cosa che non potresti assolutamente fare in nessun altro modo, in un'altra tipologia di spazio lavorativo. Quindi questo plus valore, chiamiamolo così, riguarda anche la qualità del rapporto lavorativo che diventa interattivo. Assolutamente, così aumentando la qualità del rapporto lavorativo, aumentando anche proprio la qualità del lavoro stesso e la qualità dello spazio in cui si lavora, si lavora molto meglio e tendenzialmente quando si lavora in una maniera corretta poi si fa un lavoro anche migliore, quindi comunque la qualità del lavoro si cerca sempre comunque di aumentarla. E il fatto di avere persone che fanno lavori diversi dal tuo vicino è uno dei motivi per cui tendenzialmente riesci a migliorare il tuo lavoro poi. E anche ad utilizzare le competenze degli altri. Assolutamente, utilizzando le competenze degli altri, in progetti che si fanno insieme, che nascono proprio qui dentro, anche i lavori che prima si facevano in rete con fornitori che stavano lontano da te, ovviamente si continuano ad usare gli strumenti classici che ci sono adesso come Skype, come tutti gli strumenti che ci sono su internet per lavorare in maniera a network. Però ecco, è una soluzione in più il fatto di avere vicino anche persone molto competenti in quello che fanno e di averle apportate veramente di scrivania. Questo è un valore che, se da una parte digitale ha permesso di avvicinare persone che non lo sono, che non sono vicino a te, ma ti ha permesso comunque di fargli una telefonata via Skype gratuitamente, mandagli una mail o utilizzare i tantissimi strumenti che ci sono, che sono disponibili online, il fatto di avere veramente qualcuno vicino è un'altra cosa, insomma, è un altro tipo di rapporto. A chi può essere rivolto un messaggio di questo tipo? Allora, il co-working è rivolto ad attività, professionisti, micro-imprese, tutta quella fascia di partite IVA che tendenzialmente in Italia sono sempre rimaste nel sottobosco dell'attività e non sono mai venute fuori. Quindi, ovviamente, è rivolto a chi ha bisogno di una, due scrivanie o eventualmente un ufficio chiuso, ma comunque piccolo, da due, tre, massimo quattro postazioni. Quindi non è rivolto ad imprese, è rivolto a professionisti, freelance, i nuovi artigiani, se vogliamo, gli artigiani 2.0 o 3.0, insomma. E l'importante è che abbiano comunque una sostenibilità aziendale, economica loro. Ecco, quindi di non venire qui per cercare fortuna, ma venire qui perché ho un'attività, ho bisogno di una sede, voglio spendere poco e voglio stare in un ambiente pieno di persone che hanno un certo modo di ragionare. Può servire anche a chi desidera promuovere un prodotto commerciale? Allora, noi per dire siamo i fondatori di Simple Spot, che è questa network di reti Wi-Fi gratuite, ed è un prodotto. Ovviamente essere qui dentro ci permette di avere interazioni, come dicevo prima, con persone competenti e migliorare il nostro prodotto. Quindi più che, diciamo, promozione, io direi come potenzialità di miglioramento del proprio prodotto, quello sicuramente. Quindi non è solo per il settore terziario, ma anche per il settore produttivo di nuova generazione, di nuova concezione, quindi tutta la produzione informatica legata, diciamo, alla parte internet, se vogliamo, se vogliamo chiamarla così. Pensi che questa forma alternativa possa avere un successo, un discreto successo o molto successo? No, io spero che abbia un buon successo e sicuramente noi già stiamo vedendo, avendo aperto due mesi fa, abbiamo riempito quasi tutte le scrivanie, senza ancora aver inaugurato il posto, senza che ancora il posto sia di fatto ufficialmente attivo. Quindi sicuramente avrà successo. Poi dopo, questo non lo so dire, comunque vorrei ringraziare un'altra persona, tu hai nominato Cristiano, che con me abbiamo, diciamo, dato il là a questo progetto, però anche volevo nominare Marco Barchiesi di Lara Group, che anche lui ha dato la... insomma, senza il loro contributo, questo co-working Pesaro, qui dentro, non sarebbe potuto esistere. E noi ringraziamo voi per questa bellissima intervista. Grazie.